falegnameria paludetto da più di 60 anni il legno su misura a casa tua tg plus news edizione di venezia buongiorno apriamo il nostro notiziario con la cronaca stava andando a funghi ieri nella zona sopra colmeana in provincia di belluno quando claudio rampazzo 67 anni è residente a mestre nel primo pomeriggio si è sentito improvvisamente male l'uomo è riuscito a mettersi in contatto con i soccorritori dando loro le indicazioni per riuscire a individuarlo una squadra del soccorso alpino è partita col fuoristrada mentre da belluno è decollato l'elicottero nel frattempo si è mossa anche l'ambulanza della croce verde purtroppo però mentre sono arrivati i sanitari le condizioni dell'uomo si sono aggravate all'improvviso e malgrado le manovre per rianimarlo che si sono protratte a lungo per il 67enne non c'è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso sul posto sono giunti anche i carabinieri a seguito dell'attività di controllo effettuata dalla guardia di finanza l'anno scorso sono state denunciate l'autorità giudiziaria per violazioni penali tributarie 4045 persone di cui 290 sono state arrestate in buona sostanza il 2 per cento dei soggetti denunciati è finito in carcere a segnalarla a segnalarlo è l'ufficio studi della cga di mestre che ha elaborato i dati della corte dei conti dal 2011 emerge che il numero assoluto dei denunciati è rimasto pressoché stabile mentre gli arresti dopo il minimo storico toccato nel 2016 99 hanno raggiunto il picco massimo nel 2021 con 411 per poi scendere di 121 casi nel 2022 290 appunto analizzando l'incidenza degli arrestati sul totale denunciati il percentuale è ricominciato a salire nel 2016 lo con lo 0,9 per cento per arrivare alla soglia massima nel 2020 nel 2021 entrambi gli anni il 3 per cento per poi diminuire di un punto nel 2022 con il 2 per cento maltempo in una notte il sindaco di venezia luigi brugnaro dichiara ringrazio il presidente lucazzaia perché ha firmato come richiesto lo stato di emergenza regionale anche per i comuni della città metropolitana di venezia colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 19 luglio scorso questi fenomeni meteorologici eccezionali continua brugnaro sono sempre più frequenti sono effetti dei cambiamenti climatici che vanno gestiti bisogna ripulire gli invasi fare le manutenzioni alle rive dei canali e dei fiumi creare le vasche di laminazione che servono per contenere le bombe d'acqua ma anche ad irrigare i campi nei periodi di siccità è fondamentale guardare in faccia quanto succede perché con l'applicazione della scienza e della tecnica non ci dobbiamo far trovare impreparati bisogna pensare conclude alla messa in sicurezza del territorio dove vivono le nostre famiglie sono attive le nostre imprese che creano lavoro voltiamo pagina presentata a chioggia la mostra sui passi della violenza la personale che raccoglie 14 lavori dell'artista lombardo sergio brambillasca e che vede il patrocinio del comune una scelta non casuale quella del numero delle opere 14 sono infatti le stazioni della via crocis in una simbolica e profonda unione tra le sofferenze di gesù e quelle delle vittime di violenza l'esposizione vuole lanciare un forte messaggio contro ogni forma di violenza e allo stesso tempo di denuncia contro l'indifferenza che spesso circonda chi subisce i soprosi vittime due volte la mostra è a cura dell'unavi unione nazionale vittime sarà visitabile alla galleria d'arte sergio brambillasca sottomarina in via san marco 12 da oggi 22 al 30 luglio 2023 era questa la nostra ultima notizia grazie per essere stati con noi arrivederci falegnameria paludetto da più di 60 anni il legno su misura a casa tua